E ma te dovevi ascoltare me, te scoltavi a me. Come lo amare la mia ragione? Siamo papari. Sì, sì. Papari, paparai, paparai. 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 Sì, questo è un po' di calci. Andiamo a vedere i papari. Andiamo a vedere i papari. Paparai, paparai, paparai. I papari, questa è un po' della campanina. Facciamo il tipo di campanina. A più campanina c'è un ideologo da Giovanni Muntola. Giovanni mi ricorda la montagna. Eh, guarda la montagna. Io vi direi a una montagna. La montagna. E così. Io penso veramente che tu fai una cosa che ti senti. a me, a me, a me. A me, a me, a me. Gabriele, fai il tuo fatti, commentiamo su Youtube. Two Crise Italians. Two Crise Italians. Two Crise Italians. A me, a me, a me, a me. Ma sentite, Giovanni Muntola dov'è? Giovanni... No, Giovanni Muntola. No, no, filo. Filo, 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 filo. Qua, alla crocadina, alla... Giovanni, Giovanni Muntola. Il nome è di oliveggiare. Come? Di oliveggiare. Si mangia molto bene. Ma dovete andare da... 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 Da Giovanni. Giovanni Muntola. Io sono Muntola. Muntola. Siamo figli con Muntola. Siamo figli con Muntola. E ci abbiamo accanto di Carlucci qua. Sì. C'è. Abbastante libri. Abbastante libri. Abbastante libri. Allora. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Salutiamo a tutti. Pura l'Australiani. In Calabria si saluta a tutti. Greche, italiane... Salone, tutti i paesani di... Risamo. 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 Ecco. Ecco, eh. Salutiamo. Stasera pasta fresca. Pasta fresca e pizza fresca. Vincia. Pizza prosciutto. Bravi. Venite a trovarci tutti. Pizza rucola e prosciutto. Pizza... Se c'è stocca un baccalaro. Eh? Ahahahah. No, ma devi mettere questa barzelletta che non mi ha provato. Eh, vabbò. Allora.